Celebrare il 150esimo anniversario della nascita di Sebastiano Sata, avvocato, poeta, giornalista, politico, pittore, intellettuale tutto a tondo, e gli 80 anni dell'apertura dell'Istituto Superiore che gli è stato dedicato a Nuoro, una scuola prestigiosa in un edificio d'epoca, realizzato secondo i canoni architettonici del razionalismo italiano, che ha formato generazioni di maestre e maestri elementari, che nel secondo dopoguerra hanno affabetizzato la Sardegna, contribuendo a far uscire l'isola da una secolare retrattezza, andando a insegnare nelle scuole dei paesi dell'interno. È stato questo l'obiettivo dell'iniziativa che il Liceo delle Scienze Umane e Musicali Sebastiano Sata ha promosso nella giornata di oggi, un istituto proiettato nel futuro che non dimentica le proprie radici, ma vuole formare studenti moderni con una cultura completa, ma che possano anche assecondare il proprio talento in campo musicale. L'incontro con gli studenti, ospitato nell'aula magna dell'Istituto Francesco Ciusa, che ha in comune con il Liceo Sata la dirigente Carla Marchetti, ha visto l'intervento di due studiosi della storia nuorese e dei suoi personaggi, Annico Pau, che è stato anche sindaco del capoluogo, e la professoressa Angela Guisa, autrice di saggi sui grandi nuoresi. Nel corso del convegno sono state revocate le pagine relative sia alla storia del poeta Sebastiano Sata che dell'Istituto a lui intitolato. L'artista Diego Asproni ha esposto l'opera Resistimus, realizzata nel 1977.